Non a voce sola è la rassegna di poesia, filosofia, narrativa, musica ed arti che ha aperto a Mondolfo il calendario di appuntamenti culturali. Tema centrale è il mercato della felicità inteso come desiderio, sfida femminile, partecipazione, progettualità, ricerca di imprese e cambiamento. Ospite d'eccezione della serata è stata la giornalista Tiziana Ferrario nel quale sul palco dei Giardini della Rocca ha presentato il suo libro Orgoglio e pregiudizi dedicato alle donne americane e al loro accesso al mercato della felicità dall'ascesa di Trump in poi. L'idea del libro è nata durante il mio periodo da corrispondente negli Stati Uniti, è un viaggio tra l'America e l'Italia raccontando il risveglio delle donne durante questi anni di presidenza Trump e c'è anche un po' la voglia di dire alle donne italiane svegliatevi. Un libro scritto anche pensato per gli uomini, soprattutto anche per il concetto di parità. La parità si raggiunge solo quando anche gli uomini capiranno che è un vantaggio per loro. Ormai lo stanno dicendo tutti gli economisti che lavorare sulla parità, rendere le nostre società più giuste ed eque fa aumentare il nostro PIL, aumenta la crescita economica dei paesi e quindi è un vantaggio anche per gli uomini. Capire questo significa fare un passo avanti. La Rassegna, ideata da Oriana Salvucci, festeggia quest'anno il decimo anno della sua fondazione. Il fil rouge della Rassegna è al mercato della felicità che è un po' la sintesi di tutti i fil rouge che abbiamo affrontato praticamente nei diversi anni. È un cammino che è nato come un percorso di conoscenza all'interno del pensiero femminile ed è diventato negli anni poi il luogo del dialogo fra i generi. In occasione del decennale del festival itinerante l'amministrazione comunale ha deciso di raddoppiare gli appuntamenti in programma. Per la decima edizione di Nono Voce Sola abbiamo deciso insieme ad Oriana di organizzare ben due serate. La prima che si è svolta questa sera con un grande affusso di pubblico, siamo molto felici di questo. Serata speciale con Tiziana Ferrario. La seconda serata il 17 di luglio con Riccardo Iacona. Altro aspetto importante da parte del Comune è l'istituzione del premio Coraggio delle Donne. Valorizzare quello che è il ruolo della donna all'interno della società, quindi parlare dell'universo femminile. Come amministrazione comunale ci siamo impegnati molto in questo negli anni, anche ad esempio con il premio nazionale Il Coraggio delle Donne con cui ha collaborato anche la Rassegna Nono Voce Sola.